Le fiamme gialle del gruppo di Salerno hanno rilevato violazioni alla normativa posta tutela della salute dei consumatori in sei esercizi commerciali gestiti da cinesi e dislocati fra Salerno, Monte Corvino Pugliano e Mercato San Severino. Secondo quanto appurato dai baschi verdi di Salerno, gli articoli erano di provenienza asiatica e non riportavano la denominazione merceologica, i dati dell'importatore, le modalità di smaltimento e cosa più importante la presenza di materiali o sostanze particolarmente tossiche. Inoltre erano in vendita anche giocattoli antistress molto pericolosi a causa della loro composizione a base di sostanze liquide contenute in un involucro gommoso. Alcuni di questi giocattoli all'atto del sequestro sono addirittura esplosi nelle mani dei militari durante le operazioni di sequestro. I cosmetici sequestrati dalla Guardia di Finanza, anche questi destinati in parte ai trucchi di Halloween e in parte all'uso quotidiano, sono risultati privi delle certificazioni richieste dalle norme comunitarie. Per le numerose violazioni al codice del consumo, a ciascuno dei sei titolari sono state combinate sanzioni pari a 25.800 euro.